I giocatori gioccheranno per identificare le conflitte di domenica scorsa e tornare a quel successo che minacerebbe in una posizione ancora più grande di giocchi. Il Mato Montella e Donadoni, due tecnici, a uno solo alla fine sarà accontentato, un pari di parte farebbe muovere la classifica d'entrame, ma non è successo. Vedete, ecco perché gioccheranno fino all'ultimo per prevalere in una nuova informazione. Filippina, Miliano, a guardia di trame, a presidio della due guardia, Rontani, a Gossaro, Rossini e Stastrico. Nella zona dell'ertica del territorio di gioco quadrato, Bospia, Valerio, Pisghiardo, Piscichardo e Macguarda. Gli attacchetti, i donchi, i scettori, il podpefama con il pirante e fortieri, Giusi, Rossi, Valetto, Luccarelli e Donchi, al centrocampo Marlioni, Valdese e Parolo. le punte di volo nel tridente offensivo saranno spiegati per così per funzione al punto della contesa Russo di Nola diceva dalla collaborazione di Gianni e Spetti un quarto uomo di Torino in Italia Giacometti c'è Bebera c'è un sole a Firenze temperatura accettabile nonostante un bel effetto i pesatori che torna ai venti che mi piace tanto tempo